Ladies and gentlemen, all your people, this is showtime, bella regà, bentornati, bentornati, iscrivetevi al canale o fate i bravi che sapete quella storia del mio... Allora ragazzi, oggi si parla di football americano, ecco siamo rimasti in due, e donna, d'estate c'è una volta, state una volta, sentite uno sport diverso, non vincere, vabbè fate come vi pare, Per quei due o tre che sono rimasti, ragazzi, sono giocate le prime partite di playoff, il girone di wildcard, quattro partite, due sorpresone, due partite finite agli overtime, quindi iniziamo con la partita diciamo meno entusiasmante, quella tra i Seattle Seahawks e gli Eagles, I Philadelphia Eagles iniziano la partita, non riescono a trasformare un calcio da tre punti, gli viene bloccato, poi inizia Russell Wilson, il quarterback, insieme a Lynch il running back, il running back è quello che corre con la palla, Il quarterback è il nostro fantasista, è quello che decide cosa fa chi quando si attacca, ma non sempre gli attacchi vincono i trofei, ma qui si dice gli attacchi vendono i biglietti e le difese vincono i trofei. Comunque, secondo tempo ancora Wilson, un altro touchdown, gli Eagles non riescono a fare una santissima meta a casa e la partita finisce 17-9. Altra bella partita, più interessante, che è finita all'overtime, ma da un risultato abbastanza scontato, è quella tra i Buffalo e Texan. Buffalo è andata a giocare a Texan, primo tempo ragazzi, primo tempo è un pezzo anche del secondo tempo, solo Buffalo ragazzi. Allen è il quarterback in giornata di Grazia, finisce il primo tempo 13-0, secondo tempo a 18 minuti dalla fine, dovete sapere che i tempi sono da 15 minuti effettivi, quindi a 18 minuti dalla fine, sono 4 tempi, 15 l'uno, a 18 minuti, sono 18 volte, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 volte che dico 18, a sti fantastici 18 minuti dalla fine, sali in cut da Watson, Watson è il quarterback giovane dei Texan che riescono ad andare in vantaggio sul 17-9, ma, scusate, al 16-19, ma Buffalo riesce con un colpo di coda finale ad riuscire a pareggiare con un altro calcio ed andare ai tempi supplementari sui risultati di 19-19. Cosa succede nei tempi supplementari? A un certo punto ragazzi, Watson prende 4 bombe addosso, cioè 4 difensori che vanno addosso, lui rimane in piedi, riesce a lanciare, Jones prende la palla, corre vicinissimo dalla linea di meta, lo fermano, calcio e vincono così i Texan. Ma adesso arriviamo al succo, al succo, a quello che nessuno si aspettava, all'upset come dicono qui negli Stati Uniti, cioè all'arrabbiatura, due big upset ragazzi, una per me un po' upset, però diciamo che in questo modo una squadra fortissima dalla nostra parte, quella della NFC, si leva, sì, perché i Vikings riescono a vincere a New Orleans contro i Saints, contro i Saints di uno dei quarterback che rimarranno alla storia come il quarterback più prolifico, uno dei più prolifici, forse uno dei migliori, forse. Cosa succede? I Vikings, ragazzi, primo tempo bellissimo, capovolgimenti di fronte da una parte all'altra, che termina sul 13 a 10 per i Vikings, quindi però dopo rinizia e dice vabbè adesso Breeze rientra e gli fa una testa così, Alla fine, come era scaturito il vantaggio dei Vikings? Buon tempo, devo dire, di Cousin, il quarterback dei Vikings, ha fatto comunque una buonissima partita insieme a Kirk, però la difesa che ha aiutato tantissimo i Vikings, facendo un intercetto a Breeze verso la fine del secondo quarto e la stessa difesa che è riuscita a forzare, ha intercettato la palla di Breeze, l'attacco è entrato, ha fatto meta, poi è rientrato Breeze e la difesa è riuscita a bloccare tanto bene e tanto in maniera vigorosa da riuscire a far sbagliare anche il calcio da tre punti, però dice dai, partita tirata, si rientra, si rientra e cosa succede? Tra un movimento della difesa sbagliato e sicuramente un lancio molto molto accurato dei Vikings riescono a portarsi ancora più avanti, fatto sta, che come vi avevo detto stavano a 13.10, riescono ad andare sul punteggio di 20.10, ma con un colpo di coda di Breeze, perché ragazzi Breeze non è che è l'ultimo arrivato, si va agli overtime, cosa succede agli overtime? I Vikings vincono la monetina, Cousin, grande passaggio, due metri dalla yard, touchdown Vikings in New Orleans, tutto il silenzio, ma la cosa ragazzi, la partita più incredibile per gli Stati Uniti, si sono rimasti tutti un po' scioccati, è la sconfitta in casa da parte dei Patriots ricevuta dai Titans, ragazzi, Tennessee Titans, Tennessee Whiskey, si, ragazzi. Allora diciamo che i primi tre punti fanno i Patriots, ok? Dicevano, vabbè, facile, tutto un facile, quindi adesso questa sarà la classica dei Patriots, ma a un certo punto viene un uomo che è un frigorifero che corre. Sì, ragazzi, Harry è un frigorifero che corre. Riesce a portare in un buon punto di campo Tenail, il quarterback dei Titans, quarterback che non è nemmeno lontanamente al livello di Brady, e riesce a fare il punto andando incredibilmente in vantaggio. Risposta subito dei Patriots, che velocissimamente riescono a riprendere la testa, ma incredibilmente si vede che l'attacco dei Patriots non è il solito che attacco scintillante da schiacciacassi, e la difesa a loro volta soffrono. Questo Harry, ragazzi, che voi, poi vi lascio il link, andatevi a vedere, ragazzi, un trattore, un autobus, una cosa spaventosa, ragazzi, una cosa spaventosa, e alla fine riesce a far chiudere il secondo quarto, cioè il primo tempo, in vantaggio per i Titans. 14-13. Terzo quarto, ragazzi, niente. Terzo quarto succede veramente poco. Pensate, solite cosa, Brady scricciola, il suo attacco non è proprio così puntuale come è di solito, palla a Harry, Harry cammina, corre, corre e porta avanti. E quindi cosa fa Harry? Facendo così distrugge anche la difesa, stanca la difesa, anche perché non essendo così preciso l'attacco, di conseguenza la difesa deve stare più in campo. E cosa succede? A un minuto dalla fine, a un minuto dalla fine, in piena, in piena crisi, Brady prova il tutto per tutto, prova a spingere più che può, ma viene intercettato, ragazzi, sì, viene intercettato e buonanotte ai Patriots e a tutti i suonatori. Infatti, per la prima volta i Patriots, ragazzi, è forse questa la fine dei Patriots, dei Tom Brady e del suo mentore Belichick? Aspetteremo la prossima stagione. Ma, cosa ancora più importante, questo fine settimana iniziano i playoff veri. Sabato, Minnesota va a San Francisco, da una parte nostra. Dall'altra parte, Tennessee va a Baltimore. Adesso Baltimore, ragazzi, penso che ha proprio la favorita per andare al Super Bowl della FC, anche se Houston andranno a Casa Serie A. Casa Serie A. E poi la sera, e poi la sera ci siamo noi. Noi. Perché Seattle deve venire a casa nostra. E ci abbiamo un po' al dente avvenenato, perché un paio di playoff li abbiamo persi con voi. Ci abbiamo un po' di dente avvenenato, però li abbiamo persi a casa vostra. Vediamo a casa nostra come andrà. C'è una paura fottuta, ragazzi. C'ho veramente molta, molta, fottuta paura, perché Wilson è molto forte e niente, ragazzi, forza Packers, go pack go, ricordatevi che ne voliamo. E l'altro strisciano pure al football.